Metteremo i campi, poi lavoreranno anche di notte Un pistero in mondo un taro! Farramo! Vedi, vedi il calibre che mangiano le ciglia Vedi, vedi i capellini, poi c'è lei Renzo dice, ora che? Per le delle dice il musulino, ma, ma, ma Ma guarda che non ha messo com'è a lei C'è lei, è la cava! Che non ha messo il mondo, è lei, è la cava E lei, è lei, è la cava E lei, è la cava Ma, è giusto, che ci sono state E lei, per anche se deve E lei, per il riscoso e quello Ma, per anche il riscoso ha detto E lei, n'amera di Riesco, n'amera di Allora, le duceremmi Che qua, le duceremmi Che, le duceremmi Che, le duceremmi E lei, le duceremmi E lei, questa è una cosa E lei, lei? E lei è del tutto a cava la gala è tutta la gala la gala è tutta la gala e è stato Domingo Bonedì po' Domingo Bonedì che era curava Aldina Aldina, mi nanni 747 Aldina, Domingo Bonedì no? Vigà, è stato scoperto Quattumas, c'era la Sagra del Aque no? ma invenenare i nostri piisi e i nostri stessi quindi quando ci sono torno a una faccia i nostri paredi i nostri i nostri i Giorgio no, c'era la mia caglia di fringare a mandare sui vedi io da qui la stasera qua passava mia piano piano la stuva fuori a fermarmi a doser delle borre perché mi era pieno e mi dice Giorgio guarda un figlio calmo a capirlo non ho mai la calma ma che era in parte io le ho a doser delle borre e si fugga la sigla da paese e la mamma mia i figli di mario che fero fai davanti e la cama che è la cama che fa un premio che fa il premio di lei è il premio per la casa e chiaramente che fa il sacco di lei è il premio ho? è il segno no sei tre ci sono che fai 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 una fai 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 ...ma di questa era una che era un agrofaccio... ...na di questa era un agrofaccio... ...ca e dici che il tono d'acqua è tutto quanto? ...e portata qui in Italia... ...ma' chaparicchè il mago nazionale... ...dia che prende un fottomasto... ...dossi... ...pochi venivo prima... ...maurillo Vachio... ...maurillo Vachio... ...maurillo Vachio... ...maurillo Vachio... ...pera un attimo... ...forel dì Andrea Curnolfo... ...gjuani... ...fora Andrea... ...di un을o... ...Gjuani... ...andrea... ...Gjuani... ...qu.\par ...��ani... ...pera sua morita... ...nanzo prevedrivo... ... argiù di inanni... ...ol argiù di inanni... ...opo... ...pov'è venivo a do cai... Il padre di Antonio è il padre del Benveno Cazzo. Antonio... Antonio... Antonio parla. No, no, no. Antonio è il padre del Domenico. Il padreike... Si, non è un po' di più. Il padre ha rossi. È un po' di più. E' un po' di più. Se uno non è un po' di più, andiamo a rossi. E' il padre. Me ricordo i ragazzi di loro di me. E il padre... e si è che il pane da chiude ma chiude perché il gioco e senza il gioco non è la testa come è gli uomini ma sai ma guarda che mi uspita non mi uspita ma mi uspita ma hai perché li uspita ma chiudio ma come durano loro. Non c'è parte, hanno i topi, i mali nocchi. Adesso non aveva l'esportazione. Ad esportarsi non mi capare. Che accupami che non mi stai finendo questa roba? Che accupami? Perché non mi stai finendo questa roba? Che accupami? Perché non mi stai finendo questa roba? Che accupami? Che accupami? Che accupami? Che accupami? Che accupami? E io, dopo che stai finendo, che mi ha parto un'altra, che trago il bello che fa? E io, che parlo. E tu me ne puoi dire che ha detto che ha detto a Mario Capello. Che è che la fonte di Mario Capello è di Anani, no? E io dino, il fermino. Dio, don'è? Dio, mi è che è rotta. La domenica è buona, ci fa dolore. Dopo è morto il regio, che ci si provano l'agore. E adesso, prendo il regio, allora si prendo il regio. Se stavo, si si mi matano. E adesso, quando mi sono buoni, e allora stai finendo questa roba. guarda il capello dove sta qui Renzo? dove sta qui Renzo? dove sta qui Renzo? dove sta qui Renzo? pensate che pensate che è disposto che è arrivato Renzo io perché vedo guarda ma il capello Renzo è un uomo un caldo che mai che per la settimana il capello è partito con la casa è partito è partito con la casa è partito con la casa e a me a me bambino quando c'è lì e passa il capello con la carretta io sento il capello con la carretta e la sua cala partì al ministro partì al ministro ma non ti hanno distrutto ma la sua cala quella carretta nuovo e ne